Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Tekronachers Sono ancora qui a casa mia e stavo tenendo d'occhio come andavano tutti i macchinari che mi hanno fatto nello scorso video Che ieri è saltato perchè non ho fatto il tempo a registrare però fa niente Allora stavo controllando un po' abbiamo da parte 1,66 TRF Potrebbe essere rilevante come potrebbe non esserlo perchè si alla fine non ce ne ho fatto un cazzo quanta energia c'ho immagazzinato Beh effettivamente 1,66 TRF è una bella scorta potrebbe durare tipo settimane senza fonti di energie però dettagli Ho consumato tutto il coal liquido vedete what esatto ragazzi ho dovuto fermare l'output perchè ovviamente ne stavo consumando troppo E ho anche tolto le supplier dagli scioglitori di graffiti perchè ho finito la graffiti L'ho finita tutta completamente ho tolto i supplier e ho messo gli item sink quindi tutta la grafite che produco va direttamente a sciogliere Direttamente là dentro Figata sta cosa eh Quindi no nemmeno un pezzetto di graffiti da parte Questo potrebbe essere una cosa positiva come potrebbe non esserla perchè la grafite se non sbaglio Grafite anzi no andiamo direttamente sulla Big Reactor La grafite della Big Reactor che è quella che stavamo con la lì con la grafite della Big Reactor Dovrebbe servire per craftare Esatto Una persona intelligente un minimo di grafite se la sarebbe tenuta perchè ovviamente ho 5 milioni di yellorium Che potrei non sprecare 5 milioni di yellorium ha voglia, fa energia Il discorso è che l'ho usata tutta sono un po' un demente Però potrei usare l'altra grafite perchè di grafite ragazzi non abbiamo più di una Quindi potrei fare che tipo quella che mi arriva da lì che è questa La buttiamo a cosare Quest'altra invece che quest'altra grafite bar dovrebbe uscire cuocendo Oppure uscire direttamente dal terreno dai graffiti ore Non ne sono sicurissimo Proviamo a cuocere del coal e proviamo a cuocere della karch coal Vediamo quale delle due grafite esce Sono curioso e sono sicuro che esce quella della Big Reactor Perchè la Big Reactor è abbastanza prepotente appunto esatto Esce sempre quella della Big Reactor Questo è un problemino Devo trovare un modo per tenerne un po' da parte senza che vada di là Ci servirebbe un po' di grafite Eh si ragazzi iniziare la Big Reactor Oddio iniziarla è un relativo fare un Big Reactor Ecco vediamo che fare un Big Reactor potrebbe essere una soluzione utile per il nostro prossimo futuro Soprattutto ne facciamo uno che consuma un casino di l'oro e produce un bot ed è piccolo Perchè ormai ragazzi è cose enormi e inutile fare un Big Reactor gigante Anche se ce l'ho più grosso No dove è la maglietta Non ce l'ho Ehm Insomma capito no Comunque Se ben ricordate Io tempo fa Iniziai Mi rende in mente la malata idea di fare un Quarry Io questo Quarry voglio piazzarlo da un sacco ragazzi Ma non so come piazzarlo Vi giuro sono indeciso In dubbio Non so perché potrebbe Alla fine non va a danneggiare il mondo Consuma un casino di risorse perché è enorme Però produrrà anche un sacco di risorse Soprattutto liquidi Avrà un sacco di liquidi che arrivano da qui E in effetti In effetti Fare una struttura dedicata ai tank Non è una cattivissima idea E in effetti E in effetti Io ne ho già Preparata una apposita Eh Dissera ragazzi quanto mi porta avanti Con queste cose Ne ho preparata già una di struttura per i tank E ho preparato anche un'altra struttura Non mi ricordo per cosa Me lo so dimenticato Però di tank Mi sa che mi è rimasto proprio Niente Perché non ho usato di tutti Però dovrei essere in grado di craftare un po' di tank wall Questi tank wall ci servono ragazzi Se io ne faccio Ok Mo non esageriamo Facciamo ecco Ne faccio già una cinquantina Già ci portiamo avanti E mettiamo in craft una cinquantina Poi Mi servono i tirian I tirian ragazzi Gli ho finiti tutti Quindi ne mettiamo in craft Un Diecimila Ventimila Ventimila tirian Potrebbero bastare Non lo so Mettiamo in craft un ventimila tirian E dobbiamo fare quindi Tank Per la struttura E poi magari mettere anche il query Ah non solo Non solo Volevo anche cominciare a usare i tesseract Nella zona Dove ho Non le trivelle Dove faccio il liquido Quello lì strano Quello lì per Come si chiama Il biodiesel Il biofuel Quello che è Iniziare anche lì Perché almeno Mettiamo tutti i liquidi insieme Facciamo la struttura per i liquidi E ci mettiamo sia quello Per il capito Tutti i liquidi E ci arriva un sacco di liquidi Soprattutto quelli della Mindsham Mamma mia Ok la frequenza dovrebbe essere giusta Vediamo un po' Perfetto ragazzi Siamo nella nostra Denominata Fabbrica 8 Mamma mia ragazzi Fabbrica 8 Non ci credo Ottava Sto spammando Fabbrica un deficiente Ah le sto chiamando così Poi non lo so Magari un giorno ci inventeremo Un nome più fantasioso Anzi Se avete qualche Qualche fantasia su come chiamarli Sparate perché sono tutto Tutto cervella Insomma Allora Dovrei quindi mettere Una serie di tank Magari li facciamo come a casa Fini E tipo In questa capitola Insomma Belli Vediamo un attimo Insomma ci organizziamo Una zona di tank Molto fai Che è ordinata Tanto tengono un macello di liquidi Adesso che lo ho sistemati A proposito di macello di liquidi Per craftarli ci servono I drum Giusto Quanti drum di bedrockium abbiamo Prima di tutto 22 drum Vuol dire che possiamo fare 22 tank block Sono un po' pochini Effettivamente Mirerei a qualcosa più in alto Dovrei avere Della octuple da parte La ho 24 octuple compresse Allora C'è Chi è della teoria Che conviene Effettivamente Forse Conviene veramente Fare il bedrockium Con il diamante Perché lui dice Ah ti tolgo il diamante Però C'avete presente il craft questo qui no? Perché si usa la triple E la quadruple È molto semplice da fare Il discorso è che devo scompattare la octuple Potrei fare un autocraft con le me E ovviamente vado a produrre più lingotti Perché mi spiego Mi spiego Per fare un blocco Cioè per fare un blocco Servono 9 Giusto? Ok Per fare un blocco Oltre a servire 9 Serve un octuple Ok Un octuple Tiene molto di più Di 9 bedrockium Perché se io smontassi L'octuple Potrei ottenere Una ventina di lingotti Una cosa del genere Quindi si va a risparmiare Però dovrei sfruttare L'autocrafting E magari farla garantire Anche il server Perché fareste scomposizioni Non gli piacciono molto All'applet Insomma Quindi È da decidere Se aspettare Che l'applet smonta O fare direttamente I blocchi Così come sto facendo io Come un drogato malato Spamma blocchi di bedrockium Non lo so Ci devo pensare Insomma Adesso faccio così Tanto ce l'ho E i materiali non mi mancano 24 blocchi Muoio Lo so che pesano Scusami o mino Non lo faccio più Oddio Quasi 4 stack di bedrockium Vai svolazzo Faccio prima Ah figata Non lo sapevo Ok ragazzi Abbiamo ottenuto quasi 4 stack di bedrockium E posso sicuramente Bedrockium drum Pam 3 Ce l'ha l'autocraft C'è un autocraft di bedrockium drum Sì Quanti ne posso fare 10 20 30 40 50 Bedrockium drum Pam Ok facciamo finta Che non ho visto nulla Perché mi mancano le 51 Bedrockium drum Ok già Già 51 Bedrockium drum Mi ispirano un po' di più Di quello che ho visto Fino adesso Ok adesso quanti ne abbiamo quindi Bedrockium 76 Ecco già Già andiamo su Eh già comincia a piacermi la questione Quindi Dobbiamo fare i tank della pressur Perché ormai abbiamo ragazzi L'ho fatto mille volte Pressur pipes La moda si chiama pressur pipes No tank I tank l'hanno aggiunto Praticamente lui ha inventato questi tubi iperveloci E poi dentro Vabbè ma c'è i tubi iperveloci Facciamo anche i tank iperveloci E quindi è venuta la capitana Insomma Ah Tubi iperveloci Problema Ricordate nello scorso video Qui stiamo proprio Dando proprio a cazzo di ordine Ammazzo tu cazzo Nello scorso video Tanto qui lascio Lascio craftare quelle cose Insomma lasciamo andare Eh È sorto il problema Che il Il super laminar Non portavano i liquidi E il problema in effetti È il tester Ricordate che avevo fatto delle torie Il problema è effettivamente il tester Vi faccio vedere Alla fabbrica A322 Dove Come ho risolto il problema Semplicemente Guardate ragazzi Ho preso il super laminar Guarda un po' Ecco qui Il super laminar E l'ho schiaffato Dentro un egg pressur input Della pressur Praticamente questo affare qui Prende liquidi infiniti E li manda dentro i tubi della pressur La pressur ragazzi Questi tubi qua Che vi stavo dicendo adesso Infatti di questa mod Portano liquidi infiniti E varietà di liquidi infiniti Cioè portano tutti i liquidi Che vuoi All'infinito Immediatamente Istantaneamente Dall'input all'output Immediato Qualunque quantità infinito E tutti i liquidi insieme Anche 100 liquidi insieme È questo il vantaggio Che stanno facendo Quindi Il super laminar Butta qui dentro all'infinito Lui accetta all'infinito E schiaffa nel tester act All'infinito Con l'eggi pressur output Se invece collegate direttamente Il laminar al tester act Non va Non lo so perché Ho dovuto fare questo passaggio intermedio Perché il laminar è deficiente Praticamente La thermal non funziona con la thermal E dobbiamo usare un'altra mod Cioè Delle stesse mod Non si possono fidare Delle stesse mod Cioè Che cazzo significa Non lo so Vabbè Comunque è un sistema Che hanno fatto loro Che il laminar non va col tester Tutto mette quel coso Ed è qua invece Guardate che ho fatto Ho messo Un high pressure input Direttamente sul tester act Perché Voi direte Che cazzo Stai di questo input L'input praticamente sarebbe L'ingresso all'alta pressione Input e output L'input fa diventare alta pressione L'output lo fa diventare Pressione normale Per i laminar Avete visto Lì ho messo il laminar Attaccato all'input Che poi diventa Output sul tester act Perché il tester act Ragazzi non può portare All'alta pressione È un'altra mod C'è tra un cazzo Quindi Deve essere separate le cose Una volta che il liquido Esce dal tester act Lo rimando al pressure Quindi c'è l'input Che lo manda L'input All'alta pressione E qui ci ho messo Un tank pressure intake Cioè sarebbe L'ingresso ad alta pressione Quindi ho tolto Praticamente tutti i super laminar Qui ho fatto direttamente Con questa mod E via E l'uscita Vabbè dettagli Che cazzo Se ne fotte Mi è rimasto solo 31 milioni di liquido Però dettagli L'ho usato tutto Ragazzi Era arrivato A 450 milioni L'ho usato tutto Però 1.6 terra RF Di risultato Insomma Non è Non è bad Ecco Ah Poi c'ho altre novità Da farvi vedere ragazzi Non so da dove cominciare Che la faccio più Vabbè Continuiamo il discorso tank E poi nel prossimo video Facciamo vedere le altre novità Magari ve le spoilerò a fine video Così Troppo da malato Allora Vediamo che siamo messi con i tank Ho 102 tank wall E adesso possiamo fare Un bel po' di tank block Allora Quanti ce ne possono servire Facciamo una media di 5 Un in liquido E facciamo shift click Bam Ma ne abbiamo fatti solo 12 Non basta Non manco pericare Perché erano fatti così pochi Facciamo altri per favore Facciamo 200 Eh Start Ok Ma perché non ne faccio 1000 Perché non ne faccio 1000 Perché non ne faccio 500 600 800 1000 Più 200 Start Eh Stavo pensando a come mettere i tank Essendo tank modulari Posso fare come cacchio mi pare In effetti Però Potrei anche spostarli di un quadretto più avanti Stavo dicendo un po' le misure Le grandezze Insomma Le cose sono importanti Raga E penso Che una cosa del genere Potrebbe andare bene Non serve che siano immensi Perché tanto Tengono un bot Ecco ho parlato Sono sicuro che poi si riempiono tutti Non si ottomette liquidi Però dettagli Però posso alzarli fino al soffitto E tengono un bel po' Insomma Insomma c'è una varia Basta scelta Ecco Anzi Fluid Io ho questi cosi qui Che fanno ingressare i liquidi Vorrei metterli sul davanti In modo che posso controllare i tesseract E poi con la valvola La mettiamo sopra Tipo una cosa del genere Cioè Il tank qua Il tesseract qua In modo che io posso guardarlo E poi sopra ci metto il tank E la valvola che mi dice quanto liquido c'è dentro Insomma Sì sì mi piace Così che ne dite Insomma deve essere Deve essere comodo Non deve essere Cioè deve essere carino E anche comodo Insomma è ordinato Ed è comodo Il tesseract Mettiamo qui Ad esempio questo qui sarà L'intech Di quale liquido Boh E non mi viene in mente niente Ah sì Lì devo andare a prendere Giusto Andiamo Andiamo a prendere i liquidi Laggiù Quello Il biofuel Allora Qui noi dovremo mettere Un tesseract qui Che prende energia principale Out Questo arriva direttamente Da casa Eh raga Questo arriva direttamente Dalla batteria centrale di casa E dovrebbe caricare Questo affare Perfetto E andare a distribuire Energia in questi cosi Perfetto Che dovrebbero iniziare a produrre Il biofuel Doppio Triple Quadruplo Wombo Combo Perfezione E qui ragazzi Invece di mettere Questa schifezzuola qua Cioè invece di mandare Direttamente diesel generator Che potrei anche spostare Da qui alla fine Questa potrebbe essere Solo una zona produzione Capito Insomma posso fare Come cacchio mi pare Bella sta zona È carina Vero Mi rimasta in presso È venuta fatta bene Insomma Questo tesseract Lo mandiamo Collegato a quell'altro Che è Lo mettiamo Come si chiama questo Non mi sa Tetanolo Ma com'era il nome Certo qui Biodiesel Esattamente biodiesel Quindi faremo Biodiesel in Facciamo una nuova frequenza Madonna che Lista di frequenze Infinite Oh mio dio Dovrebbero fare Delle cartelle Dovrebbero mettere Delle cartelle Macello Un macello Di frequenza Ragazzi 15 La chiamiamo Biodiesel In Ok Poi l'uscita Non serve che la chiamiamo Biodiesel out Perché non ce ne fotto Una minchia Fabbrica 1 Fabbrica 5 Guarda la roba Che c'ho qui È il liquid coil In Questo è il coil Che arriva Vedi C'è un sacco di Un sacco di frequenze Fabbrica 5A Questo qui è per i Vabbè Lasciamo perle Insomma Comunque Ma un casino di frequenze Che non sappiamo Dove andare a sbattere La testa Ok abbiamo fatto il tester Abbiamo attivato Ste cose E adesso io però Devo poter ricevere Qui I cactus seed Lo sapete che ho Seri problemi di cactus seed Ma non un po' di problemi Serissimi Cioè mi stanno Intasando tutto l'impianto Devo buttarle qui Il più presto possibile Dovrei mettere tipo Ah qui ci sono già i filtri Qui ci sono i filtri Sì E se io collegassi Un testerat Qui che va a casa Vediamo che Tipo Lichiamo Frequenza 16 Lo chiamiamo Produzione Production Biodiesel È biodiesel vero? Sì Produzione biodiesel Lasciamolo qui Non so se Se la logistica È in grado di riconoscere Il fatto Vabbè Dovevo mettere oggetti Ricevi in via Però Non se sbagliamo Perché altrimenti Funziona un cazzo Ok questo ci frega Perfetto Vediamo un po' Se arriva del biodiesel Perfetto ragazzi Ecco il biodiesel Che sta arrivando Mamma mia Ok ragazzi Abbiamo anche una produzione Di biodiesel Permattiva Che prende finalmente Quei cactus di merda Che non ce la facevo più A guardarli Dov'è che sta il terzo piano Ancora qui Qui cacchio di semina di cactus Vabbè ragazzi Io comincerei a salutarvi Sinceramente Ho fatto abbastanza cose Per questo video Se dovete anche troppo Sgarato non avrete dovuto Ci vediamo al prossimo video Lasciate un mi piace Condividete Questa cosa è una Basic logistic pie Più paura che No Non ho paura di niente Perché Perché alla fine Non è una chest È un collegamento Interdisperzionale Biodiesel Vediamo un po' Se gli oggetti vanno Lo vedremo nel prossimo video Io vi saluto Bella per voi Lasciate un mi piace Condividete Qua non funziona un cazzo di niente Collegati Ok si è collegato Si è discollegato A quanto pare Non gli piace collegarsi così Ragazzi Io vi saluto Ci vediamo nel prossimo video Ho finito lo spazio Mi d'essere Guarda che cazzo ho fatto Come ho fatto a finire lo spazio Devo creare una struttura apposita Solo per i d'essere Vedete ragazzi Sempre esagerazioni Non riesco a fare una cosa normale Devo esagerare Perché se non esagero Non sono contento Imbarazzante questa cosa Vabbè ragazzi Guardate i cactus seed Tutto esploso Io vi ho il prossimo video Bella per voi Lasciate un mi piace Condividete